Andrea Masciangelo, dopo l'esperienza di Vasto, di nuovo coinvolto in un progetto, abbiamo parlato con il Presidente, un progetto a medio e lungo termine per riportare i chiedi nel professionismo. Sì, è un bel progetto, ringrazio il Presidente Mergiotti, nonché amico di questa grande opportunità, sono orgoglioso anche del ruolo che mi ha dato, un ruolo sicuramente di molta importanza, accettando da lavorare. Sicuramente creeremo una società che ha degli obiettivi, però come hai detto bene tu, a medio e lungo termine, perché c'è tanto lavoro da fare, diciamo che la nostra prima priorità è creare una struttura societaria importante che duri soprattutto nel tempo. Che giorni sono questi? Immagino frenetici, perché la trattativa che ha portato questa nuova proprietà ad avere le quote della Chieti Calcio è stata piuttosto lunga a tratti farraginosa. È stata lunga, travagliata, ma l'ho saputo solo alla fine, perché come ho detto c'è un rapporto di stima e di amicizia con il Presidente Mergiotti e me l'ha detto la sera del 2 luglio alle 11, mi ha chiamato e ha detto ti devo parlare, ho comprato il Chieti, quindi mi ha tenuto all'oscuro di tutto. E quindi sono giorni che lavoriamo dalla mattina alla sera per cercare di conoscere e approfondire tutte le cose, le strutture, abbiamo tanto da fare, sicuramente non abbiamo trovato una situazione semplice, ma non ci fa paura niente, siamo giovani, forti, abbiamo voglia di lavorare con entusiasmo, con i piedi per terra e cercheremo soprattutto di creare qualcosa di importante. Si può dire che i due nodi in questo momento sono l'allestimento della Rosa e poi la questione manto erboso dell'Angelini? Il secondo lo porterei sul primo, perché è una situazione sicuramente delicata, molto importante, quindi sicuramente ho fatto in sopralluogo, una delle prime cose che ho fatto, ho fatto in sopralluogo agli impianti, l'Angelini è veramente qualcosa di indescrivibile, ci siamo messi già all'opera anche su trovare situazioni alternative, col comune c'è un bando che adesso deve uscire per aggiudicare una ditta per fare i lavori e quindi niente, sicuramente questo è il primo problema. Dove giocare il Chieti nelle prime partite quindi? Ma intanto posso dire che è un ringraziamento, intanto per il comune di Ortona che ci ha dato già la disponibilità, cercheremo anche altre disponibilità di impianti, il primo Ortona già ci ha dato la porta aperta, quindi intanto gli ringrazio come società dell'Ortona Calcio. Vedremo, questo è un problema molto importante e cercheremo comunque di risolverlo al più breve tempo possibile. L'ultima, sulla Rosa, ecco a che punto siete? Sulla Rosa la società ha deciso di condividere un lavoro a suo tempo iniziato dal consulente di mercato Giannotti Toni, quindi abbiamo dato fiducia a questo lavoro, insieme al mister Grandoni stanno lavorando giorno e notte e a breve diciamo comunque già c'è un buon lavoro iniziato a suo tempo, ripeto, dal consulente, a breve sicuramente faremo tutto dal punto di vista della Rosa.